Alla luce di quanto in questi giorni è stato detto e scritto anche relativamente alla nostra iniziativa di appellarci al Sindaco per una maggiore attenzione al cantiere di Piazza Andrea Costa, vogliamo ribadire alcune cose, precisare alcune cose velocemente. Uno, che chi ha sottoscritto la lettera, chiede sostanzialmente una cosa, di realizzare un'indagine archeologica completa e approfondita su tutta l'area di Piazza Andrea Costa, magari per stringere i tempi anche mettendo più maestranze e più archeologi. Perché questo? Perché è un'occasione storica per andare a vedere il tessuto, diciamo così, di questo luogo centralissimo della Fano antica, il cuore di Fano in Fortuna, Fortuna, a cominciare soprattutto dal cardo massimo, che sarebbe importantissimo riuscire a stabilire se c'è e dov'è. E quindi noi facciamo una sollecitazione all'amministrazione perché siamo fiduciosi che si possa realizzare questa indagine, ricordando comunque che la tutela del, innanzitutto, che il centro storico di Fano è di per sé un sito archeologico, perché quando si dice noi facciamo una riqualificazione di una piazza, non ci occupiamo d'altro, in realtà si sta facendo una riqualificazione su un sito archeologico, quindi bisogna tenerlo conto. E la tutela del patrimonio archeologico, del patrimonio culturale in generale, ma di quello archeologico anche interrato, è un dovere costituzionale sia dello Stato che degli enti locali. Quindi noi vogliamo solo questo, non vogliamo cacciare nessuno, non amiamo i conflitti che magari qualcuno preferisce alimentare. Chiediamo solo ascolto, attenzione, nell'interesse di tutti, perché dovrebbe essere interesse anche dell'amministrazione comunale andare a vedere esattamente che cosa c'è in questo spazio.